Si è svolto a Palermo, a Palazzo d'Orleans, l'incontro fra il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il Sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, e l'amministratore delegato di SAC, Nico Torrisi, sulla condivisione dell'area cargo dell'aeroporto di Comiso. Con questo incontro, ha detto il Governatore Schifani, facciamo un ulteriore passo concreto per l'avvio delle procedure che portino alla concreta progettazione esecutiva dell'area cargo dell'aeroporto di Comiso. Ho mantenuto l'impegno che avevo preso con il Comune, ha detto il Governatore, con la SAC in occasione della mia ultima visita nel Ragusano, perché resto convinto dell'opportunità di fare sistema per raggiungere un obiettivo strategico per la crescita dell'economia agroalimentare del territorio ebleo. Erano presenti anche l'assessore regionale all'infrastruttura, Alessandro Arricò, e il dirigente generale del Dipartimento, Salvo Lizio. L'incontro che si è tenuto a Palermo ha dato seguito alla visita di febbraio e che Schifani ha fatto a Comiso per un primo confronto con le autorità cittadine e il management della società di gestione dell'aeroporto. Siamo al lavoro senza sosta sulle arterie autostradali del sud-est della Sicilia, ha aggiunto l'assessore Arricò, dalla Siracusa Gela alla Catania Ragusa, che potranno essere collegate allo scalo aeroportuale. Un'altra grande opportunità è costituita dal fondo da 200 milioni di euro che abbiamo stanziato con l'ultima finanziaria regionale per sostenere i Comuni nella fase di progettazione e che potrà essere sfruttato anche a questo scopo. Grazie. Grazie.